E in tutte le cose così, anche se il mondo è molto cambiato, ma non dobbiamo rimanere indietro, noi dobbiamo andare avanti! Perché ricordatevi che noi avremo 18 anni per tutta la vita! Adesso io vorrei che da quello di Trastevere, da quello di Tor Barancio, da quello di Tor Pagnotta, da quello della Borgata Fidene, da quello del Mandrione, da quello dei Parioli, da quello eccetera, tutta la gente che ha superato i 45-48 anni come l'ho superati io, vi alzaste tutti con me e in coro, in tutta Roma, in tutto il Lazio, da tutti i paesi dove ci vedono, in tutto il mondo che è collegato con noi tramite il mio sito internet, dove sono riversate le nostre trasmissioni e Angelo Carperelli in prima persona, tutti in coro, diciamo 1, 2, 3, avremo 18 anni per tutta la vita! Ecco qua!